Presso la Confcommercio di Taranto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi natalizi di Mottola, tra i quali spicca il presepe vivente giunto alla ventesima edizione, una vera tradizione e ormai la storia di Mottola, organizzatore e direttore artistico Pietro Palagiano. Due gli appuntamenti il 22 dicembre con l'arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme ed il 5 gennaio con l'editto di Erode e la calata dei Maggi. Buongiorno a tutti, sono Pietro Palagiano, direttore artistico del presepe vivente di Mottola. Quest'anno, come è stato già detto, ricorre la ventesima edizione e noi del gruppo folcloristico di Mottola Motola Pnod cerchiamo di onorarla nel miglior modo possibile. C'è tanto lavoro, però la soddisfazione è quando poi a Mottola arrivano tanti visitatori che visitano il nostro paese e visitano anche il presepe vivente in quelle bellissime grotte che sono quelle della grotta della Madonna delle Sette Lampade. Le date del presepe vivente sono domenica 22 dicembre con una doppia apertura, ci sarà l'apertura mattinale a favore di tutti quanti, però è dedicata soprattutto ai bambini dove ci sarà anche la collaborazione con la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di Mottola e poi la classica apertura, quella serale, dalle ore 18 alle ore 22. E come ha già detto Massimiliano, subito dopo alle ore 22 c'è l'evento clou, uno degli eventi clou di questo bellissimo cartellone che hanno organizzato anche loro è Natale in Collina, quindi ci sarà anche l'evento con i Terra Ross, quindi dopo alle ore 22. Quindi c'è tantissimo da visitare a Mottola in quel giorno e anche negli altri giorni come ha proposto l'assessore. La seconda data è quella della Calata dei Magi, ossia il 5 gennaio e quest'anno noi appunto come anche negli altri anni, riproponiamo la Calata dei Magi il 5 gennaio insieme a un altro evento, oramai già da due anni, che lo riproponiamo e sia l'editto di Erode. Mentre la prima serata, sia quella del 22 dicembre, riproponiamo l'arrivo a Becleme di Giuseppe e di Maria. Inoltre quest'anno cerchiamo sempre di aggiungerci qualche novità, però questa novità di quest'anno esce un po' fuori dal contesto religioso, in effetti si svolgerà sempre giù alle grotte della Madonna delle Sette Lambe, però uscirà un po' fuori dal contesto religioso ed è una novità dedicata ai più piccoli. Penso di aver detto tutto, vi aspettiamo numerosi così a visitare queste imprese viventi e ripeto anche altre iniziative che si svolgeranno a Mottola. Grazie. Sì, questa è una manifestazione che quest'anno ha giunto un traguardo molto importante, ossia sono 20 anni e noi del gruppo folcloristico di Mottola Motola Fonodo, organizzatore dell'evento, cerchiamo di rappresentarlo nel miglior modo possibile e di aggiungerci sempre qualche novità. Quest'anno ci sarà una novità che però esce un po' fuori dal contesto religioso, però penso che andrà bene lo stesso, soprattutto perché è dedicato ai più piccoli. E inoltre volevo appunto ricordare le cose più importanti che sono le date, quelle del 22 dicembre dove ci sarà una doppia apertura, l'apertura mattinale a favore naturalmente di tutto il pubblico che vorrà appunto approcciarsi ed avvicinarsi a questa nostra iniziativa e oltre alla mattina, e questa è anche svolta in collaborazione con la scuola dell'infanzia Dante Alighieri, poi ci sarà la classica apertura serale dalle ore 18 alle ore 22 e poi abbiamo l'altra data che è quella del 5 gennaio dove ci saranno altri, l'evento della calata dei magi e in più dell'editto di Erode. Mentre nella prima serata, ossia quella del 22 dicembre, riproporremo l'arrivo a Betlem di Giuseppe e di Maria. Noi ripeto ogni anno che noi ce la mettiamo tutta affinché questa nostra iniziativa venga accolta e venga appunto vista da tutti i visitatori e purtroppo al tempo, al tempo, a livello climatico non ci possiamo fare niente perché alcune volte purtroppo il clima non ci permette di svolgere una delle due date. Però speriamo che quest'anno non avvenga questo e che tutti i visitatori potranno appunto raggiungere le grotte della Madonna delle Sette Lambere che sorge ai piedi della collina Mottolese per poter visitare il nostro presepe ma soprattutto la bellezza naturale delle nostre grotte. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per parlare di questo fitto cartellone di appuntamenti del Natale Mottolese 2019. Oggi io sono qui come assessore alla cultura e al turismo di Mottola in rappresentanza anche del primo cittadino che ahimè ha avuto un problema all'ultimo minuto e non è potuto essere con noi. Vi ringrazio per la vostra presenza e oggi abbiamo l'obiettivo di comunicarvi quali sono le attività principali che costituiscono appunto questo cartellone di manifestazioni e di eventi legati al Natale Mottolese. Partiamo dal fatto che l'amministrazione anche quest'anno dopo molti anni, molti secoli, anzi mi viene da dire, vuole commemorare appunto la memoria, le gesta del nostro santo patrono, quindi del nostro santo protettore Thomas Beckett di Canterbury attraverso una o due giorni di manifestazioni e di eventi che toccano sia il lato civile che il lato chiaramente religioso e che sono molto sentiti dalla nostra collettività, dalla nostra comunità perché appunto si parla di spirito, quindi di questioni a cui la devozione dei fedeli mortolesi è molto attaccata, molto legata. In questi due giorni noi avremo sia le manifestazioni, le celebrazioni che riguardano il rito religioso vero e proprio, ma abbiamo anche quest'anno una rappresentazione che riguarda le cosiddette arti performative, cioè al confine tra il teatro, la recitazione e le arti visive, quindi il videomapping ad esempio e passando oltre al di là del nostro evento del 28, appunto il 29 dicembre che riguarda il santo patrono della città, abbiamo degli appuntamenti che riguardano ad esempio il distretto urbano del commercio e quindi l'associazione dei commercianti del centro della città mortolese che ha voluto mettere in campo delle attività grazie al fatto che ci si è aggiudicato un bando regionale per potenziare le attività di promozione del nostro territorio e in questo caso la musica la fa da padrone perché molti eventi saranno di matrice musicale, dei concerti dal vivo e oltre a questo ci sono anche eventi che poi racconteranno i rappresentanti delle associazioni meglio di me che riguardano però l'animazione del centro cittadino con gli artisti di strada, con l'enogastronomia e così via. Volevo anche porre l'accento sul fatto che quest'anno per il primo anno il comune di Mottola ha stretto una partnership con l'associazione che organizza il festival Il Libro Possibile, è un festival di letteratura ed editoria che ci porterà a presentare due libri con i rispettivi autori a Mottola il 10 e il 17 dicembre, in quel caso c'è una collaborazione con un'organizzazione molto strutturata che organizza questo festival a luglio tutti gli anni a Polignano a Mare e che per l'edizione invernale ha voluto coinvolgere anche Mottola. al di là di questo non c'è da dimenticarsi anche l'appuntamento con il 22 di dicembre per il presepe vivente che è una manifestazione davvero molto scenografica e molto anche lì toccante dal punto di vista emotivo perché viene realizzata per il ventesimo anno quest'anno a Mottola nello scenario naturale rupestre delle nostre grotte che abbiamo nella parte più periferica della città e quindi anche lì Mottola pone particolare attenzione al inviare questo messaggio soprattutto ai cittadini dei paesi limitrofi. Questo è quanto sostanzialmente il comune di Mottola questo realizzerà quest'anno per il Natale e per tutte le attività di contorno del Natale Mottolese. Sono tante associazioni che a Mottola si impegnano tutto l'anno nel realizzare, nell'organizzare attività culturali di interesse sociale che valorizzino anche il nostro territorio e il Natale è una di quelle occasioni dove danno il loro meglio e insieme a loro quest'anno anche l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorato alla cultura, al turismo e ai servizi sociali si sono impegnati per rendere questo cartellone, questo calendario di eventi ancora più ricco, più importante, più interessante per i cittadini mottolesi ma non solo, anche per i visitatori che venissero da fuori rispetto al nostro paese perché per esempio quest'anno abbiamo l'occasione di avviare una partnership importante ad esempio nel settore della letteratura e dell'editoria con il festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare, il famoso appuntamento che tutti gli anni a luglio riempie quella cittadina di autori molto importanti, ecco quest'anno sarà a Mottola dal 10 di dicembre e durerà fino al 30 di aprile questo festival nella sua versione invernale ma oltre al Libro Possibile è chiaro che ci sono delle manifestazioni che sono già consolidate, per esempio siamo alla ventesima edizione del nostro presepe vivente e siamo quest'anno a celebrare chiaramente anche il nostro santo patrono attraverso una rappresentazione teatrale e anche molto scenografica che ripercorrerà la storia del suo martirio e quindi per noi è un evento molto importante anche quello e a questo si aggiungono anche le attività che il nostro infopoint turistico mette in campo per potenziare i propri servizi grazie anche lì ad un bando regionale che ci ha concesso di potenziare sia gli orari che le attività dell'infopoint. A tutto ciò non dimentichiamo che c'è anche il distretto urbano del commercio, anche lì un bando regionale che Mottola insieme a Palagiano e a Palagianello si sono aggiudicati e anche grazie a quella misura realizzeremo molte attività culturali che riguardano soprattutto la musica, lo spettacolo dal vivo e quindi voglio dire che noi abbiamo un Natale, ci aspetta un periodo adesso molto arricchente, molto stimolante e che va a scaldare un'atmosfera che chiaramente è un po' rigida come temperature però sappiamo che sia l'arte che la cultura scaldano i cuori e aprono le menti. Sono Don Sario Chiarelli parloco della chiesa matrice di Mottola e con questo ricco cartellone che è stato oggi presentato ha comunque il protagonista principale che è il Cristo Gesù quindi il messaggio perenne che ci deriva dal Natale sarebbe stato inutile o sarebbe inutile creare un contorno così impegnativo, così importante senza poi concentrare l'attenzione sul mistero che celebriamo nel Natale. Il Natale ci propone un messaggio sempre attuale, un messaggio di fiducia, un messaggio di speranza che quest'anno è quanto mai un messaggio che la gente attende date anche le precarie situazioni lavorative che la nostra realtà locale sta vivendo. Quindi ci auguriamo che il Natale sia providenziale per tutti. Ecco all'interno delle celebrazioni natalizie e delle varie manifestazioni si inserisce anche il culto di Tommaso Beckett che è il patrono della città patronato anche unico se vogliamo nel suo genere dal momento che è un santo forestiero, un santo inglese vissuto tra il 1118 e il 1170. Una figura quanto mai attuale per l'impegno sociale, politico e il coraggio di pretendere l'autonomia della Chiesa nei confronti di uno Stato che voleva fagocitare anche le prerogative della comunità cristiana. Il messaggio in questo momento particolare è un augurio che si può fare che questa situazione di crisi, di grandi difficoltà che stiamo vivendo sul territorio possa quanto prima essere superato dall'impegno non soltanto degli amministratori ma anche dei nostri politici a livello nazionale. Grazie a tutti!